La seconda giornata dell'edizione 2017 del Festival Dante 2021 ha avuto, al centro, la conversazione nella sala dantesca della Biblioteca Classenze fra il direttore della stampa Maurizio Molinari e Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna e dell'Associazione Bancaria Italiana. Tema, al centro, della conversazione, il valore di comunità al tempo della globalizzazione, prendendo spunto da una citazione della Divina Commedia e sonarne la voce e io e mio, quando era nel concetto noi e nostro. Una comunità al tempo della globalizzazione, ma le comunità non sono tutte uguali. Di conseguenza, dopo quasi un decennio di crisi economica che è diventata crisi sociale, io analizzo anche un fenomeno di una crisi morale che è più forte della crisi economica che c'è stata. Di conseguenza, lo spunto dantesco è per individuare se in questi anni vi sia ancora una distinta, forte e univoca identità italiana negli organismi, ovviamente, europei e internazionali. Questa è la questione che mi viene stimolata e che penso si ponga, quale ruolo, quale identità, perché il rischio che abbiamo vissuto e che viviamo è che questo eccesso di io sia frutto anche di una troppo labile identità, di fronte magari ad altre identità eccessivamente nazionali e nazionalistiche. Io credo che noi viviamo in una stagione di passaggio segnata da tre grandi processi, le diseguaglianze economiche, le migrazioni e il terrorismo. Sono elementi di disgregazione. Coloro che sapranno dare risposte unificanti dimostreranno la leadership necessaria per guidare le democrazie. Quando c'è una crisi, la crisi seleziona la classe dirigente. I leader sono espressi da chi riesce a governare e dare risposte efficaci alla popolazione. Ciò che ha in comune, hanno in comune le migrazioni, il terrorismo e le diseguaglianze è che i singoli chiedono protezione nei nostri paesi. I leader che sapranno dare protezione saranno tali. Quelli che non sapranno dare queste risposte saranno spazzati via.